In questo video andremo a vedere tre strategie per investire in criptovalute, lo faremo insieme a Stefano Castiello e se ancora non hai visto i video precedenti abbiamo parlato. Nel primo video abbiamo visto cosa sono le criptovalute, nel secondo video abbiamo visto quali sono i rischi e i pericoli di investire in criptovalute e in questo terzo video andremo a vedere tre metodi appunto per investire. Ma prima di partire con il video voglio parlarti dello sponsor di questo video che è BingX, un exchange dove puoi acquistare e vendere criptovalute. Personalmente è l'exchange che io sto utilizzando per acquistare le mie criptovalute, la cosa importante di BingX è che ha la proof of reserve, ovvero la prova di riserva al 100%. Ci sono più di 350 criptovalute che possiamo acquistare, c'è tutta una sezione academy per i principianti dove possiamo imparare cosa sono le cripto, cosa è la blockchain, perché investire, come investire. Ci sono un sacco di informazioni utili e per i più temerari abbiamo anche il copy trading. Infatti possiamo copiare i trader professionisti selezionati da BingX per copiare le loro strategie di trading. Io vi lascio il link nella descrizione di questo video per iscriversi, l'iscrizione è gratuita, ci vogliono due minuti. Mi raccomando ragazzi investite consapevolmente, non investite mai soldi che vi servono per vivere, ma adesso passiamo alle strategie da mettere in pratica per investire in criptovalute. Diciamo che quando si tratta di investire in criptovalute è importante studiare, è sempre importante studiare, però per quanto riguarda invece essere principianti intermedio oppure avanzati, lì dipende un po' da che livello si vuole raggiungere, perché possono anche essere principianti e ottenere risultati ottimi, perché non voglio andare diciamo troppo nello specifico, voglio solo studiare bitcoin e perché vale la pena investirci, quali sono i pro e i contro, guardando anche questa serie di video, però non bisogna per forza essere comunque avanzati e studiare giorno e notte per capire poi realmente dove investire o meno, perché tramite tanti strumenti che oggi si utilizzano c'è possibilità di rendere il tutto più facile. Quindi in questo video voglio parlarvi di quali sono i modi per investire e non vi preoccupate, non vi spaventate perché non voglio parlarvi di analisi tecnica, mostrarvi i grafici perché lì è qualcosa di più avanzato, che consiglio di fare anche un minimo perché non è difficile, supporti l'esistenza che sono livelli da monitorare dove i prezzi poi tendono a rimbalzare oppure a scendere per farla semplice, però in questo video voglio parlarvi diciamo di quali sono i metodi che possiamo utilizzare per investire. Come ho detto nei video precedenti, poi Fabio tu se vuoi mi fai qualche domanda, mi interrompi e cerco di rispondere. Sono venute già in mente dieci Stefano però lascio a continuare. Ok, sì, allora possiamo investire in cripto semplicemente sfruttando un exchange centralizzato, oggi ne abbiamo parlato negli altri video, gli exchange centralizzati permettono di depositare valuta fiat, quindi che sia euro ad esempio oppure dollaro, pound e tantissime altre valute tramite la nostra carta di credito e acquistare direttamente cripto come ad esempio bitcoin, ethereum e tantissime altre criptovalute con un click pagando piccole commissioni. Già vi ho parlato dei problemi che hanno gli exchange centralizzati, però è importante capire che si può fare facilmente e si va ad acquistare la criptovaluta quando si vuole, però qual è il modo migliore per acquistarla? Qual è diciamo il giusto momento? Se devo dirvi la verità non è che possiamo trovare il momento giusto per investire perché se fosse così semplice tutti saremmo miliardari e migliorari, è impossibile avere il time giusto, però possiamo diciamo non prevedere, però possiamo studiare il passato, possiamo capire quali sono i punti diciamo importanti e capire poi diciamo dove e come investire e perché in quel momento. Adesso ragazzi però passiamo alla strategia oppure alle strategie che possiamo utilizzare per investire perché ce ne sono diverse, però quella che io consiglio di più e non sono un consulente finanziario, lo faccio come amico perché questa è la mia passione, è il dollar cost averaging. Stefano, dollar cost averaging sarebbe il rapporto che c'è tra la criptovaluta e il dollaro, giusto? No, in verità questo è un sistema che ti permette di andare a mediare il prezzo, cioè nel senso io investo in bitcoin, investo una volta al mese, come ho detto prima, due volte al mese e nei mesi questo investimento che faccio un giorno preciso nel mese si può fare anche in automatico tramite tanti exchange, cioè prelevano soldi dalla vostra carta in automatico se lo permettete. Come se fosse un piano di accumulo Stefano? Sì, sì, esatto, sì, esatto. Quindi si può fare un piano di accumulo in criptovaluta? Sì, si può fare, sì, il pack si può fare in cripto, andare a mediare il prezzo e quindi in questo modo ad esempio bitcoin, visto che è molto volatile, potreste avere una media d'acquisto ottima perché ad esempio avete acquistato a 15.000, poi avete acquistato a 15.500, poi di nuovo a 14.000, poi di nuovo a 18.000 e quindi facendo una somma di tutti questi prezzi d'acquisto il vostro investimento potrebbe aver avuto un risvolto positivo perché siete andati a mediare il prezzo, quindi questa potrebbe essere un'ottima strategia da utilizzare, non è complicata, anzi è facilissima, tantissimi exchange, ripeto, ti permettono di farlo in automatico tramite la vostra carta, pagate qualche commissione in più e questa potrebbe essere davvero ottima. Seconda strategia che potreste utilizzare è quella di acquistare sempre quando dopo aver studiato e aver fatto le vostre analisi pensate sia un buon momento per diciamo acquistare, quindi non so, sapete che bitcoin in questo momento è un prezzo basso perché si trova, non so, sotto in un periodo particolare macroeconomico e quindi pensate che da qui a un mese potrebbe salire e che fate in quel giorno quando c'è stato questa diciamo questo ribasso improvviso, faccio comunque un esempio a caso però ci sono tantissimi fattori da analizzare, in quel momento quando l'asset secondo voi va acquistato lo acquistate avendo liquidità sull'exchange e quindi fate il vostro acquisto e questo può avvenire una volta al mese, due volte al mese, può variare moltissimo, dipende voi ovviamente poi cosa volete fare. E queste sono le strategie più semplici da utilizzare e non è così complicato investire, sta più nel scegliere il momento giusto, studiare perché bisogna investire in quel momento e soprattutto anche si tratta di fortuna spesso, quindi ragazzi la fortuna conta negli investimenti e poco ma sicuro. Ok, quindi Stefano fammi capire, cioè non c'è la criptovaluta giusta o sbagliata sul quale investire ma è il momento? Sì, diciamo che come ho detto anche nei video precedenti, la cripto giusta non c'è però se scegliamo una cripto più capitalizzata e meno volatile, con rendimenti non tanto grandi però il rischio si abbassa, se scegliete una cripto, un altcoin che non sia bitcoin, meno capitalizzata il rischio aumenta anche il rendimento, è un fattore determinante questo, è direttamente proporzionale il tutto, quindi dipende da questi fattori qui. Ok, quindi diciamo che inizialmente scegliere bitcoin potrebbe essere quella un po' tra virgolette meno rischiosa perché è più capitalizzata e quindi abbiamo anche meno fluttuazioni. Esattamente, esattamente. Ok, poi una volta che magari ho capito posso investire in altcoin che ad esempio 3 o 4 altcoin, vabbè Ethereum che è un'altra delle più conosciute, poi? Sì, poi ci sono ad esempio anche cripto come ad esempio, non so, Cardano, se vedi le prime 10 per capitalizzazione, trovi XRP, trovi, non voglio fare poi commenti per quanto riguarda le cripto perché è uno studio che viene fatto poi è soggettivo anche, però in generale ci sono tante cripto, Solana, ci sono le coin che sarebbero cripto, ci sono anche le meme stocks, quindi le azioni simili alle meme coin. Le meme coin sarebbero cripto come ad esempio Shiba Inu, Dogecoin che raffigurano dei cani, in questo caso, lo Shiba è un cane, può anche Doge, e Doge è uno Shiba sempre, però Doge è la prima meme coin che è nata, dovrebbe essere. E queste cripto sono famose per questo perché si va a creare una community, ci sono persone che si affezionano e quindi poi l'investimento ha reso milionarie, tantissime persone, però il valore vero e proprio di queste meme coin non c'è, quindi sono più soggetti a crolli e a perdita di percentuale assurda. Un altro modo invece per investire, quello un po' più complicato, sarebbe studiare analisi tecnica, capire come funzionano i grafici cripto, di bitcoin e tantissime altre criptovalute, individuare i supporti di esistenza, trendline e fare tutte queste cose qui, utilizzare oscillatori, indicatori, sono cose che sembrano complicate ma non lo sono una volta che si studia, come tutto in verità, e potreste poi così capire bene dove investire, perché investire, studiare anche dal punto di vista macroeconomico quello che succede, ad esempio con il rialzo di rassi di interesse, l'inflazione, la Fed, tutti i dati macroeconomici, come ad esempio il CPI, tantissime cose che possono aiutare comunque a capire quando investire e quando non investire, e poi potreste sfruttare queste conoscenze anche per fare trading di criptovalute tramite sempre questi exchange. Perché appunto io voglio iniziare a investire, avevo pensato appunto al bitcoin, diciamo che la cosa migliore potrebbe essere iniziare da una, studiarla bene, studiare anche quello che è successo in passato, seguirla, poi studiare un po' di analisi tecnica e dedicarsi a soltanto una cripto per, non so, sei mesi, un anno, non so quanto potrebbe essere, un tempo giusto. Sì, sì, assolutamente, assolutamente, iniziare, basta iniziare e capire come, diciamo, funziona una cripto e poi investire quando si è pronti senza nessuno stress e ansia. Se perdo soldi me la prendo con Stefano che mi ha consigliato male. No, quello no, perché ovviamente, allora, ci tengo a dire però il discorso che ognuno deve investire consapevolmente, come abbiamo detto anche negli altri video, con la testa, studiando, poi sei comunque responsabile delle tue azioni. Sì, ma come in qualsiasi cosa, sì, non puoi prendertelo con qualcuno. Certo, io posso consigliare un progetto, essere convinto e trasmetterti emotivamente qualcosa, però devi avere i piedi per terra e capire comunque che se investi nei tuoi soldi non devi fare stupidaggini, questo è fondamentale capirlo. Ok, l'unica domanda che volevo farti, Stefano, poi magari chiudiamo, però comunque ragazzi mi raccomando, cioè commentate, fate domande, perché potremmo o fare altre puntate, episodi con Stefano su questo, o magari Stefano risponde, glielo fate nei suoi video. La differenza tra Bitcoin e le monete fiat, giusto, che è euro-dollar, ora si chiamano monete fiat, ho capito bene, l'ho imparata. Sì, valute fiat, sì, valute fiat. È che le valute fiat se ne stampano quante se ne vuole, giusto, invece i Bitcoin, ad esempio, sono limitati, cioè nel senso ce ne saranno fino a un tot e poi basta. 21 milioni, sì, esattamente, sì. Questa è la differenza che, diciamo, le crypto dovrebbero essere deflazionistiche, quindi non soggette all'inflazione, pian piano si riduce l'inflazione, perché sono scarse, cioè in pratica Bitcoin 21 milioni solo ce ne saranno e quindi questo rende Bitcoin un asset che può avere un valore maggiore in futuro. Invece, a differenza delle valute fiat, come ad esempio euro, dollaro, pound, yen e tutto il resto, sono soggette all'inflazione perché le banche centrali possono stampare a proprio piacimento per andare poi a combattere l'inflazione e fare tantissime altre cose. E vediamo, ad esempio, in Venezuela che le persone sono costrette a buttare il denaro perché talmente che, diciamo, il soggetto all'inflazione ampia non ha quasi più valore e quindi questa è un po' la differenza, sì. Ad esempio, più un asset è scarso, più poi l'inflazione va a diminuire. Questo è un po' il concetto detto in maniera semplice. Ok, va bene. Stefano, io penso che per il momento abbiamo dato un po' di cose io, se posso dirlo, voglio iniziare con un piano di accumulo in bitcoin anche magari con 50 euro al mese, però voglio provare. Bene, Stefano, grazie mille per il tuo intervento. Grazie a te Fabio. Veramente per me è stato, mi hai arricchito tantissimo, mi hai chiarito le idee e appunto quindi sono arrivato alla fine con quello che voglio fare, quindi è molto positivo. Ragazzi, mi auguro che lo sia stato anche per voi. Mi raccomando, seguite Stefano sul suo canale, iscrivendovi o anche su Instagram, tutti gli altri social. Iscrivetevi anche al mio e noi, come al solito, ci vediamo in giro. Iscrivetevi anche al mio e noi, come al solito, ci vediamo in giro. Iscrivetevi anche al mio e noi, come al solito, ci vediamo in giro.